Procediamo a rimontare tutti i pezzi della macchina. Prendiamo la pala e il suo centratore, la guarnizione, i raschiatori. I raschiatori devono essere messi con la parte più affilata e tagliente esternamente. Nell'alloggio va messa la parte più piatta. Sono due, vanno messi nella stessa modalità. Una volta posizionati i raschiatori, li possiamo inserire all'interno del cilindro. Arriviamo fino in fondo a battuta e giriamo fino a quando non troviamo l'incastro. Posizioniamo il centratore a triangolo col vertice verso l'alto, che corrisponderà al nostro alloggio per trovare la posizione esatta del coperchio frontale. Andiamo a rimontare i pomelli. A questo punto, per rimontare correttamente il pistone, ci conviene abbassarlo, accendere la macchina e rialzarlo fino a battuta. Per poi riposizionare il perno laterale. Rimettiamo l'agitatore nel suo alloggio. La stellina frontale. La macchina è pronta per il nuovo carico.